Terza tecnica è la PAI T trasformativa, quindi pensa a quello di cui ti vuoi liberare, nota dov'è nel corpo, prendilo, portalo dietro il terzo occhio, sparalo in una sfera sopra gli occhi, facci passare un simbolo che per te rappresenta la trasformazione, comunque sia qualcuno ha un fuoco sotto, qualcuno ha una fabbrica che lo trasforma, quando è trasformato, 3, 2, 1, un bel ispiro dentro al corpo, inspira la cima della testa, espira punta dei piedi, espira la cima della testa, assicurate che vada dentro le parti del corpo e come sempre alla fine notate che cosa è cambiato, se serve come sempre rimettete il video e rifate la tecnica, questa è la PAI T trasformativa. Grazie a tutti per aver guardato il video,